... ... ... la prima partite in prima batteria 47 Cento tarfalla a Fettine al 2 per espericciata a Sudamoto Prato al 3 Canali Chiara Caravapistoia 4 Nap Kristin a Martina Flores Club Sport e alla cilindro Icaruglia di Alessia Gentri Nuovo di Montevarchi proseguiamo con le premiazioni 50 la dammaschia 96 al terzo posto D'Arducci Junior 4.0 al secondo Mascogli Andrea Jimmy Klett e vince Cosi Filippo Alvarà Pistoria all'inizio solidifica l'atleta Manei Nia Tropos è stata squalificata per pirata in regolare e sono alla partenza per la batteria 48 Gento Carpallo Lamaschi alla 2 Alini Gianni sull'autorato alla 3 Alessandro Tropos alla 4 Giuvento Simone e alla 5 Giulia Puglato L'azione ci parla più fermi nella prima 6 al terzo posto Giuvento la prima 6